ma si è bloccato ma che se ti metti ti tocca il tubo qua all'angolare no se riesco a mettermi un po' si ti ho capito ma ti arriva il tubo prima il senso si mette su cappettogna una o una terza a sinistra a sinistra a sinistra prova così vai trova un po' prova prova vai vai stersa a destra fra poco con poco vai france vai vai non ti sa che non ce l'abbia 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 secondo me se lo prendi così ce la qua ce la fai però attento perché c'hai quello scutone lì vedete che è dentro qui in mezzo c'hai la pia se è in mezzo che lo prendi tutto è che le progetti che esce è in mezzo che è in mezzo No, no, vai. Ah, ragazzi, mamma tua. Ah, ragazzi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sei di nuovo con le barre che stanno toccando, Francia. Sta toccando di nuovo. non passate un paio di mese fa è grande è un gradinone si è già passato era meno profondo ci avevamo messo pietre una ruota l'avevamo messo a pietre ha stallonato davanti e poi a zero davanti la ruota l'avevamo messo la ruota l'avevamo messo la ruota l'avevamo messo la ruota l'avevamo messo dì Grazie a tutti. 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 Fa gli muovili un attimo sulla... Aspetta che ti muove lui un po'. Mettila a retro. Lì, mettila a retro. Vai 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 vai. Vai 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 Grazie a tutti